allora questa qua mi piace tantissimo che cosa sarà mai questo coso strano è una stampantina che ho comprato e che mi piace perché fa delle stampantine stampantose vi faccio vedere un piccolo video in cui vi fanno vedere proprio come funziona questa stampantina guarda carica il il fogliettino e poi con la con un'applicazione si stampa un nastro in carta termica che peraltro ho provato niente male perché alla fine questa carta termica non va via cioè non è che come i fax appena lo tocchi dopo un po smettono di funzionare e mi trovo bene perché stampo un mucchio di etichettine volevo provare cose non mi pagano per parlare